Ad agosto l'Istat stima per l'interscambio commerciale con i paesi extra Unione Europea un aumento su base mensile contenuto per entrambi i flussi. È più ampio per le esportazioni, pari a più 0,8% rispetto alle importazioni, più 0,3%. L'incremento è dovuto alle maggiori vendite di beni di consumo durevoli e non durevoli. Diminuiscono invece le esportazioni di energia, beni strumentali e intermedi. Dal lato dell'import si rilevano aumenti congiunturali diffusi di diversa intensità, il più ampio per beni intermedi. Su base annua l'export si riduce del 7,4%. La flessione è determinata dalle minori vendite di energia e beni strumentali. L'import registra un calo annuo del 6,5% per effetto principalmente della contrazione degli acquisti di energia. Nel trimestre giugno-agosto 2024, rispetto al precedente, l'export diminuisce del 2,5%. Calano anche in questo arco temporale le esportazioni di energia, beni di consumo durevoli e in misura più contenuta, beni strumentali. Nello stesso periodo l'import registra una riduzione dell'1,3%. Contribuiscono a questo dato soprattutto i minori acquisti di beni di consumo non durevoli.